Street art, ovvero arte di strada, qualcuno forse può storcere il naso, ma questa volta la gigantografia di Nelson Mandela, realizzata dall'artista Yorrit sulla parete di un condominio, ribattizzato Condominio dei Diritti, ha messo tutti d'accordo. Avere un murales come questo non ci dà solo il quadro di un artista straordinario, ma ci dà la possibilità di fermarsi e riflettere su quelli che sono i diritti umani e messaggi importanti che devono essere mandati. Siamo molto orgogliosi che questo graffito sia presente in uno spazio anche nostro, insomma. Mi pare che sia un messaggio importante il murales di Mandela, un messaggio che testimonia il valore dei diritti. L'inaugurazione del murales di Nelson Mandela, divenuta icona dei diritti umani, avviene in un momento particolarmente importante. Cento anni dalla sua nascita e cinque dalla sua morte, che come lui stesso affermò, rappresenta solo una partenza verso i miei antenati e pertanto va festeggiata. La sua anima è su quel grande muro, lui che di muri ne ha abbattuti tanti, soprattutto nei suoi 27 anni di prigionia. La prima opera di grande dimensione a Firenze era figura appunto Nelson Mandela, che è una delle figure più iconiche del Novecento. Sono contento di aver potuto raffigurarlo e oggi, a cinque anni dalla sua scomparsa, è quanto più importante ricordare la sua figura. L'artista Yorit, famoso per le sue opere sui muri delle periferie della città, ha regalato a tutti un pennello come segno di condivisione, indossando una maglietta con la bandiera palestinese. Perché Mandela è stato sempre impegnato per la causa palestinese. Infatti una delle sue dichiarazioni è stata che il popolo sudafricano non sarà mai libero finché non sarà libero il popolo palestinese. Ma cosa ne pensano i condomini di questo murales? Certo sono contenta, ho seguito i lavori, sì, ovviamente abito qua, quindi sì, l'ho seguito tantissimo, dall'inizio, dalla progettazione alla fine. I vari progetti ci sono, anche Yorit ha detto che vorrebbe fare Grammci, abbiamo proposto l'altra facciata, ovviamente è vuota. Eccoci.